Le difficoltà più importanti sono queste, che purtroppo non sono solo le mie, sono di tutti i miei colleghi e del mondo del lavoro, che non riusciamo a trovare personale per lavorare. Arriva da un imprenditore della Valdichiana, Claudio Valentini, questo appello, il lavoro c'è ma non si trovano gli operai. Come mi è capitato a me, una persona che è venuta da me dicendo che se l'assumevo, ma al nero, perché dice lui per 300-400 euro non sarebbe venuto a lavorare? E dico ma perché qui non pedi mica 300-400 euro? E dice ma non pedi 900 di reddito di cittadinanza, sicché la differenza è questa, non mi conviene. Ebbene sì, nel post-pandemia, dove si fa un gran parlare di emergenza economica e di perdita dei posti di lavoro, succede anche che un imprenditore non riesca a trovare gli operai. Siamo accesa in Valdichiana, dove Valentini, titolare di un'officina metalmeccanica, cerca due persone da assumere, una in realtà. La trovata è assunta proprio il giorno in cui abbiamo fatto incursione con le nostre telecamere nella sua azienda. Per ancora altri tre anni avrebbe preso 900 euro di disoccupazione. Ha rinunciato a disoccupazione e proprio oggi, il 10 di agosto, è stato assunto. Più mancherebbe una persona per i montaggi esterni di infissi e strutture che facciamo anche carpenteria medio pesante e leggera. In tutto 10 due persone, tra operai e personale amministrativo, impiegate nella sua azienda. I suoi dipendenti, però, per la metà, sono di origini straniere. Sì, la metà. La metà perché l'italiano non è propenso a sporcarsi le mani. Il neo più importante, secondo Valentini, in questa Italia delle contraddizioni, il fatto che la formazione sia ormai solo a carico delle aziende. Perché oggi si forma tutto con le cooperative e compagnie varie, è tutto un giro di soldi e un rigirio di politica a danno delle aziende. Facendo in questo modo, fanno scomparire totalmente l'artigianato in Italia.